Amici di Battista 70 Phone, un breve video per illustrarvi le novità della nuova Fox Sound. Parliamo della versione 0.5, già potete notare qui sotto che i tasti sono diventati 5, ma non siete obbligati ad usarli tutti e 5, nel senso che sto dicendo un sacco di cazzate e quindi posso andare tranquillamente a fanculo.